Ciao! Quarto esercizio della serie Move Power. Oggi vi propongo una piccola sfida. Nella vostra routine mattutina, da quando vi alzate a quando arrivate al lavoro, immagino che facciate con cadenza sempre le stesse cose, con la stessa modalità, con la stessa velocità, negli stessi tempi. L'esercizio di oggi è quello di provare a stravolgere questa routine, aggiungendo qualche cosa che non avete mai fatto, che potrebbe essere una colazione differente, che potrebbe essere alzarsi 5 minuti prima o 10 minuti prima, mettere dentro un esercizio fisico, attivare una lettura mattutina che non avete mai fatto, cioè provare a cambiare qualche cosa all'interno di questa routine. Perché? Perché così ci alleniamo ad essere più consapevoli a non stare all'interno di una routine in maniera passiva. Se riusciamo ad aggiungere qualcosa, vuole anche dire che incominciamo ad avere consapevolezza delle cose che facciamo. E questo fa davvero la differenza. Mi raccomando, per la vita, ciao!